Qual è la situazione di mercato? Qual è la situazione di mercato e che cosa emerge dalla versione di quest'anno della tua ricerca? Di fatto è uscito oggi come anticipazione su Sole24ore il consueto report sulle reti e le aggregazioni immobiliari in Italia. Franchising direi che ha tenuto bene quest'anno rispetto ai 5 anni di decremento a cui abbiamo assistito veramente in quest'ultimo periodo. Quindi caduta soft sul materasso, speriamo sia un'inversione di tendenza verso un numero positivo. Il franchising oggi rimane abbastanza polverizzato, quindi tante aziende di dimensioni modeste che hanno bisogno comunque di fare tanti investimenti in ambito di brand, in ambito di servizio per dare un valore effettivamente aggiunto all'agente immobiliare. Uno spaccato particolare invece su quelle che ho definito aggregazioni alternative, parliamo per l'appunto degli MLS, dei consorsi locali, delle piccole reti che oggi si aggregano condividendo tecnologia, magari marchi e servizi. Direi un sistema alternativo che vede davvero protagonisti i nuovi progetti di MLS che speriamo anche qui che sia un segnale positivo verso una categoria che stenta un po' a collaborare, a fare squadra. Chissà che magari una nuova cultura e chiaramente l'utilizzo costante di questi mezzi non segna un po' il là, non dia l'avvio ad una nuova formula di rete, di condivisione e quindi di opportunità di affermazione sul mercato. Qualche anno fa si diceva a livello di franchising che andava ormai, si andava nell'aderazione del franchising light, del franchising leggero, è ancora così? Ma in realtà se noi osserviamo negli ultimi anni quelle aziende che hanno mantenuto un modello di aggregazione rigido, un porto d'osso anni 90, sono reti che stanno perdendo e anche quest'anno hanno perso comunque punti vendita, a significare che tutto sommato non è più un modello così gradito, vista anche la condizione di mercato dall'operatore. Quindi franchising più che leggero direi con una formulazione di costo diversa, magari legata ai risultati e con dei servizi che effettivamente facciano segnare un segno più sul bilancio degli agenti immobiliari, questo è fondamentale. Nella giornata di oggi sei moderatore e possiamo dire assoluto protagonista. Che aria tira, che aria si respira tra gli operatori dell'immobiliare raccolti qui? Ma te lo saprò dire meglio a fine giornata, però le persone cominciano ad affluire. Oggi avrò l'opportunità di modellare una tavola rotonda con alcuni capitani di impresa nell'ambito del mondo immobiliare e creditizio. Si respira comunque un'aria positiva, una nuova aria sul voler fare e quindi c'è una buona energia. Confidiamo che con la fine d'anno si chiudano tanti capitoli ancora un po' negativi e che il 2016 segni veramente una vera ripresa del settore perché gli operatori tutti ne hanno bisogno. Grazie Gerardo.